Bentornati su Nero Scuro ragazzi, oggi è una giornata speciale, è l'ultimo giorno del 2017 e questa mattina mi sono svegliato con una bellissima sorpresa, ho raggiunto i 100 iscritti e quindi io oltre che a farvi gli auguri di un buon nuovo inizio anno per il 2018 e vi ringrazio tantissimo per il supporto che mi avete dato, non avrei mai pensato di raggiungere i 100 iscritti quindi questo video è solo per ringraziarvi, per farvi gli auguri dopodiché ho già preparato altri video che rilascerò nel nuovo anno, nel 2018 un video sulla casetta, abbiamo sistemato il pavimento e una videoricetta sempre per il nostro robot da cucina quindi ancora tante tante grazie a tutti, preparerò anche il video per questo traguardo che grazie a voi sono riuscito a raggiungere, rinnovo ancora tutti gli auguri se non siete iscritti al canale vi invito allora a iscrivervi così li superiamo i 100 lasciate il solito like di incoraggiamento, nella head del canale trovate anche il collegamento alla mia pagina facebook e al profilo instagram, quindi ancora tante 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 grazie e a un buon 2018, inizio del 2018 a tutti, vi ringrazio ancora, ciao ciao